Sono occasioni sempre, ogni volta che si celebra, di guardare verso il cielo per capire meglio quello che stiamo vivendo sulla terra e soprattutto per imparare a viverlo sempre meglio. Celebrazione come questa è la patrona dell'arma dei carabinieri, che è una delle realtà a servizio della popolazione più ancora, nonostante tutto, più stimate, più presenti e quindi anche punto di riferimento. Questo serve da una parte a ribadire l'importanza di come anche un servizio del genere come quello che loro svolgono ha bisogno anche di ideali grandi e quindi guardare al cielo per avere gli ideali migliori e anche per incoraggiare, sostenere uomini e donne che si spendono per il bene comune talvolta in situazioni anche di difficoltà e di fatica e che quindi è giusto e doveroso sostenere anche come comunità cristiana attraverso la preghiera. Sono tre momenti in cui c'è la sintesi di quello che viene fatto poi durante l'intero anno sono momenti in cui noi ricordiamo alle persone, alla società, alle autorità, alla popolazione quello che svolgiamo normalmente e perché lo svolgiamo, qual è la nostra ragione di essere perché ci muoviamo in un certo modo e vedo e credo che la popolazione soprattutto ce lo riconosca. La giornata dell'orfano perché noi ricordiamo che la nostra associazione che è l'ONOMAC siamo molto orgogliosi di averla istituita nel primo dopoguerra per sostenere i fili di tutti i nostri caduti per i quali addirittura riusciamo anche a garantire gli studi anche universitari e questo dà anche un momento di serenità a tutte le famiglie che purtroppo hanno perso il loro congiunto nell'adempimento del servizio.